ragazzi era spenta la webcam e quindi ci attacchiamo al cazzo ragazzi ecco i progamer in azione non ho la forza pure sono maschio c'è la forza tu ragazzi io sono più forte di me io sono tossecchino se capisce guarda il braccio mi ha confrontato guardatelo mettilo guardate che differenza oh mi butto ah non è inclinata non è inclinata facciamo raga un posto da pro player guarda qua così c'è il pane papà ma che c'è la necca c'è il pane si vai a porgo bislacco mi piace la zucchina guardate ci stanno arrivando dopo ragazzi facciamo un video di just dance si dopo il primo che fa 3 kg decide che cosa fare il primo che fa io ti faccio una kg lui direi e vediamo e ci prende un pacco di frizzi frizzi anzi no due pacche di frizzi frizzi vabbè ci stanno Lorenzo non andare là perché non vale noi guarda guardate come muore perchè sono ce l'hanno non tanto 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 no abbiamo trovato thompson scuot shield raga cioè molto scuola e' sempre che non gioca nascolato ma non mi vedo i pistoletti e i cecchini oddio guarda boom io lo sento fa che non fa 3 kg ragazzi davvero mi sparo un testo per me sono easy 3 kg per me è easy per niente 2-3 kg si guarda te che culo 50 e 50 fa 200 sto godendo non sai quanto si si vede il culo non dire le parolacce non dire le parolacce le dico sempre durante la webcam che le sgrigia anche quando fai le videochiamate non ti manco al telefono guarda te che culo la fortuna mi chiama ragazzi la fortuna mi chiama non mi non la spiego dice francesco vieni ti porto fortuna ma di cosa stiamo parlando ragazzi ma di cosa stiamo parlando che tu sei uno scurato ma c'è pure guarda quanto sono io gogo guarda quanto sto godendo io sono prendo il massimo le bende guarda c'è manca l'attore lo scarro guarda oppure il pompa nuovo leggendario cioè pensa questa a me non mi piace non mi fa schifo che sfiga ecco scarro e portano tanto le armi ce l'ha quindi cioè si le armi ce l'ho però ragazzi non mi accontento se la potevo non hai tutte le armi del mondo si magari ti mangi un inventario con dieci armi sarebbe bellissimo ragazzi inizia la guerra se ci fosse almeno qualcuno regalo un amore poi vedo delle costruzioni ma non so di chi sono voglio pushar no? aspetta ti immagini che non c'è la trappola che non c'è qui addosso un attimo madonna santa se almeno c'è qualcuno sa che sei lottata? si che ho lottato no c'è un accesso scarro scarro ma regà no scarro niente scarro regà vuol dire scarro? niente scarro 3,2,1 scarro lo sapevo io guarda quanto è veloce oddio dai sono pushar sta sotto si sta sotto ah dai ci tua montaggi tua ma dai che scherzo? a me non li ho beccati l'ho beccato con cecchino tu non l'ermaco che era la mia boda non mi sparava cioè non mi metteva l'arma oddio oddio io faccio una kill due peccate di pesce di pesce di pesce di pesce di pesce di pesce cioè livello 13 guarda il suo armadietto dolce a lungo prima c'era lo skin e l'ho vendute tutte non mi vende in giro lorenzo regà dice le bugine tu giochi tu giochi tu giochi da dopo di me ma lorenzo non dite i bugine che gioca prima di te non dite in cazzo serio ah regà questo è il più nobbo di mio cugino che ho cattore anni d'altro ma che te ne hanno io non ho detto non sei c'è zero sfide zero lute zero non che fort bite hai fatto zero di fort bite con scritto corp non c'è male niente io c'ho tre tu fai dare uno quindi non dite niente non dite più forte grazie a giocare prima di me non è gioco da season 3 quindi non dite niente tu giochi da season 7 la season 4 bello bello poi io gioco da season 4 io tu ce la faccio da bidet raga spengo la webcam bella raga finisce la webcam la webcam non può finire stupido raga io vado qua tanto 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 quindi non c'è nessuno guarda non c'è qualcuno guarda è vero e butto dalla finestra non c'è nessuno non c'è nessuno guarda non c'è nessuno guarda eh ho parlato c'è nessuno c'è nessuno dove potrei andare c'è un lama ma no guarda se questo mi ruba la mano io non fico mi accola mi accola mi accola oh signore oh signore oh signore oh my god non c'è nessuno non c'è nessuno ecco la scarpa eh c'è nessuno c'è nessuno che schifo oh no almeno dimmi se che sai come sei bello sì devi farlo eh dai vai 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 è tuo è tuo guarda se lo fai via vado vado oddio vai no no era 4 di vita questo per forza 59 frara raga partita decisiva devo fare no per tutte due una kill ma no non vuole per tutte due una kill no 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 per tutte due una kill